Con tutto quello che c'è di spettacolare che devo recuperare e leggere della Marvel, niente, non ce la posso fare. Devo per forza andarmi ad infognare nella lettura delle serie più trash che esistano. Carissimi amici amanti dei fumetti, dei comics, in questo caso benvenuti a questa nuova videorecensione. E come dicevo un po' da questa intro, vi recensisco una serie molto particolare a quest'oggi. Sono convinto di una serie che ben pochi di voi avranno letto, a mio avviso. Secondo me anche tra gli appassionati dei comics questa non è una serie autoriale che si sente, è vero, si ha come protagonista Spider-Man, quindi uno degli eroi della Marvel più seguiti, anche a livello italiano, ma è una serie che tra l'altro è inerita in Italia, quindi a maggior ragione tra gli appassionati di voi ci dovrebbero essere per chi l'ha letta anche chi se l'è andata a recuperare appunto in lingua originale. Ma io che sto recuperando un po' tutto ciò che il materiale Marvel, proprio in questo periodo, partendo da questo periodo degli anni 90, metà anni 90, così, periodo per molto infelice lo so, ma io appunto che mi sono incarognito nelle esplorazioni di questi anfratti qui, mi sono ritrovato di fronte a questa serie avulsa da tutto il contesto, distaccata da altre cose che sto andando a recuperare, come sarà appunto la saga dei cloni di Spider-Man, una cosa o un'altra, perché allora mi sono andata a infognare con questa serie qui? Ma semplicemente e soprattutto curiosità, una serie in 12 numeri, in particolare proprio perché è distaccata dal resto, quindi rispetto a diverse altre serie, anche di diversi eroi, oltre a quelle di Spider-Man, che in questo periodo comunque evito in attesa che abbiano un reboot negli anni successivi, fino agli anni 90, inizio 2000, qui invece ho detto ma sono 12 numeri ed è distaccata dal resto, quindi sono storie di Spider-Man abbastanza classiche nel loro essere sciorinate e soprattutto appunto distaccate da una continuity, le prendo così come sono, vediamo come sono leggibili. Il primo indizio però che ovviamente mi aveva già dato che si sarebbe molto probabilmente trattato di qualcosa di abbastanza trash è il fatto che fossero sostanzialmente gli adattamenti in fumetto delle storie prese dalla serie tv, questa sì forse vista da alcuni di voi, la serie tv del tempo, di Spider-Man, presa insomma dal cartone degli anni 90. Lo stile del disegno comunque tutto sommato è dinamico e piacevole, diciamo comunque visto il periodo, rispetto anche ad altre produzioni. C'è questo stile sostanzialmente molto molto pop tanto nel disegno quanto anche nella narrazione e come vedremo le trame sono comunque appunto molto semplici. Ma prima di appunto dirvi se e per chi possa valer la pena il recupero di questa serie qui eventualmente andiamo un attimo a vedere se siete curiosi di che cosa tratta questa serie di 12 numeri, con chi se la vede Spider-Man e eventualmente quali sono anche le storie un po' più interessanti se proprio si vuole andare a spulciare. Le trame di questa serie risultano semplici e riassumono un po' avventure piuttosto classiche tipiche diciamo di alcuni scontri tra Spider-Man e diversi suoi antagonisti. Ci sono nell'ordine The Punisher, Hammerhead, Sinister, La Voltoio, Reno, Puppet Master e Mad Thinker, Kingpin, Mysterio, Beetle e Dottor Octopus e Venom. Episodio particolarmente interessante che vorrei segnalarvi tra questi, lo andiamo un attimo ad esaminare nel dettaglio, è quello che vede Spider-Man contraposto a Kingpin ben in due volumi in questo caso. Kingpin si mette in mostra nei confronti dei media per aver sgominato un po' tutta la criminalità amanata. Ovviamente è tutto un piano per far abbassare la guardia, scacciare la concorrenza e poi dominare le strade con i propri scagnozzi. Mentre Peter Parker si mette alla ricerca degli indizi che possono incastrare Kingpin, questi con la scusa di un'intervista rapisce Mary Jane. Spider-Man tribolerà non poco per intracciare dove Kingpin ha nascosto Mary Jane e altrettanto dovrà tribolare per riuscire a sconfiggere Kingpin. In mezzo ci sarà anche l'intrigante rapporto di Kingpin e sua moglie, dato che egli cerca di tenerla all'oscuro di tutte le sue oscure faccende appunto. In effetti oltre i due di Kingpin forse si potrebbero segnalare come, diciamo, non dico interessanti però che stanno nel decente sufficiente, anche due albi di Spider-Man che se la vede contro appunto Dottor Octopus e Venom. Detto questo però, ai più, alla maggioranza, mi sento di dire che sia tra le varie appunto serie esistenti, una serie abbastanza sconsigliabile. Se posso provare proprio a pensare a qualcuno a cui poter, non dico raccomandare, ma poter accennare un possibile recupero, a parte i pazzoidi come me, appunto agli eventuali completisti, cioè coloro che veramente vogliono recuperare tutto, ad esempio sui supereroi, nello specifico su Spider-Man. Coloro, insomma, che si leggerebbero anche la carta igienica del Mamoragno. Oppure, eventualmente, proprio al lettore estremamente casuale, proprio quello che non si vuole andare a infognare in mezzo alla continuity completa degli eroi Marvel, dei loro multiversi, eccetera, eccetera, e voglio semplicemente sfogliare qualche storia pop, veloce, andante, come magari più o meno all'acqua di rose può aver intravisto, se non nel cartone, nei film di Spider-Man. Una serie, insomma, altamente commerciale, molto veloce e leggera da fruire. Detto questo, però, come dico, ben lungi, anche da chi è un frittore casuale, poterli andare a consigliare tutti gli effetti, questa, anche di serie, diciamo, comunque leggeri, non impegnative, ce ne sono tante, sull'Ovoragno di alta qualità, da poter consigliare. Questa è stata una curiosità che mi sono andato a voler togliere, per dirvi che cosa poi ho ritrovato e se valga o meno la pena recuperarla. Assolutamente no. Però, come dico, mi sono tolto questo sfizio a metà tra il completismo e togliersi. Una curiosità. Spero sicuramente di parlarvi nella prossima serie Marvel, che tratterò qualcosa di nettamente migliore, sebbene, come dicevo, anche il ciclo del clone di Spider-Man, non da tutti, ma da buona parte, non è visto proprio come un ciclo fortunatissimo, qualitativamente parlando. Però, chi sono io, se non ViperFlitz, per volermi andare a tuffare in qualche cosa di periglioso in merito ai recuperi fumettistici? Eccomi qua. Fatemi sapere se per puro caso vi foste imbattuti in questa serie, che cosa ne avete pensato e se l'aveste fatto, oppure se vi è incuriosito questo averne accennato qui. Con questo è veramente tutto. Da Viper ci vediamo a un prossimo video.